Saluto a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo. Allora, vediamo un attimino. Prima di cominciare la trasmissione, innanzitutto vi ricordo l'appuntamento per sabato 28 gennaio alle ore 20.30 qui in sala Radio Gama 5 dove terremo il dibattito giudizio di necessità. Il giudizio di necessità è uno dei cinque elementi che fanno parte del modo di vivere, il modo di rappresentarsi di chi pratica stragonaria all'interno del sistema sociale in cui viviamo. Il giudizio per giudizio si intende il nostro modo di ragionare e il nostro modo di definire le cose, il nostro modo di dire le cose sono fatte in questo o in quel modo, e partendo dalla decisione che le cose sono fatte in questo o in quel modo, noi ci muoviamo all'interno della vita sociale. Ma tutto ciò che noi subiamo, tutto ciò che ci viene incontro all'interno della vita sociale, in fondo sono altrettanti giudizi di necessità. Tutti gli altri nella società, cioè le altre persone, si rivolgono verso noi attraverso dei giudizi di necessità. Il giudizio di necessità è antagonista, è contrapposto a quello che è il giudizio di verità, perché il giudizio di necessità dice, in fondo io non so quale sia la verità, quale sia la realtà, io non so quanto immenso sia il mondo che mi circonda. E pertanto il giudizio che io ti espongo in questo momento, che guida un po' le mie scelte all'interno del sistema sociale in cui vivo, è chiaramente un giudizio relativo, è un giudizio che appartiene al mio divenuto, a quello che io conosco, non è un giudizio assoluto. E allora emetto un giudizio la cui radice non è legata a una verità, ma è legata al mio intento, cioè a ciò che io voglio perseguire all'interno del sistema sociale in cui vivo. Mettere le cose in questo modo significa renderci conto che tutto ciò che ci giunge dal mondo, dalla società in cui viviamo, sto parlando della politica, sto parlando della pubblicità televisiva, sto parlando di tutte quelle che sono le relazioni sociali, in realtà anche se si presentano come dei giudizi di verità, come dei giudizi assoluti, in realtà sono solo dei giudizi di necessità, cioè giudizi che vengono portati, che vengono emessi da persone o da enti che hanno uno scopo da raggiungere nei nostri confronti. Diventare cosciente e consapevole di questo non è che ci si sottrae dal sistema sociale o dalla vita sociale o dalle relazioni, ma si è più guardinghi, si è più attenti, si vedono le relazioni che si ha col mondo non più come relazioni assolute, come relazioni alle quali sottometterci, ma si vedono come delle relazioni che sono portatrici di un intento, di scopi, anche nei nostri confronti. E allora si è guardinghi, cioè si è consapevoli di essere in un mondo in cui siamo delle prede, in cui qualcuno ci sta predando. E noi all'interno di questo cerchiamo a nostra volta di mettere le nostre tensioni, le nostre passioni, i nostri desideri, attraverso i nostri giudizi. Giudizi che siamo costretti ad emettere, e questo fa parte un po' della, credo della quarta accademia di Atene, apparteneva allo scetticismo, dove io sono scettico rispetto a tutto ciò che avviene nel mondo, ma nonostante questo devo comunque mangiare, devo comunque agire, devo comunque comunicare, ma ciò che io emetto attraverso il mio giudizio nel mio agire e nel mio comunicare, io so che è relativo a ciò che io ho conosciuto, a ciò che io sono diventato all'interno delle trasformazioni. E questo è praticamente il senso del dibattito che terremo sul giudizio di necessità. E vedremo all'interno del dibattito come in realtà la menzogna, cioè la bugia, il mentire, non sia altro che il light motive, cioè il motivo ricorrente nella nostra vita. Per cui è inutile dire a uno non stai a mentire, sta a me leggere dietro le sue affermazioni cosa c'è o cosa non c'è, ed è un altro modo di vedere la vita, un altro modo di rappresentarsi con l'esistenza, che appartiene alla stragonaria. Torno a ripetere, non è che il giudizio di necessità non venga usato dai politici, dai pubblicitari, dalla televisione, dai giornali e via via. Il problema diverso sta nel fatto che noi siamo consapevoli che questo è un giudizio di necessità e siamo consapevoli che ciò che ci viene dal mondo verso noi sono altrettanti giudizi di necessità, per cui sono altrettanti fonte di inganno, fonte di truffa, fonte di imbroglio. E noi sappiamo, noi chi pratica stregonaria, come sfuggire all'imbroglio della truffa e ci si sfugge manifestando le nostre tensioni e i nostri bisogni, manifestando cioè la nostra verità. Nostra verità che è la verità del nostro divenuto e non è la verità in assoluto, ma è ciò che noi consideriamo ciò che è vero, in funzione dei nostri intenti, per cui anche in funzione dell'imbroglio rispetto all'altro. E questo è il tema del dibattito che terremo il 28 gennaio alle ore 20.30 qui in sala Radio Gamma 5. Ricordo che Radio Gamma 5 si è attrezzata anche di riscaldamento, cioè non è come l'anno scorso che facevamo i dibattiti al freddo, adesso il riscaldamento sta funzionando e naturalmente lo faremo funzionare in quel momento, per cui almeno nell'ultimo dibattito ha funzionato piuttosto bene. Bene, questo è tutto per l'appuntamento del 28 gennaio 2006. La trasmissione di oggi è verte su un concetto, un concetto che riguarda l'uomo e che è proprio del cristianesimo. Fa parte di quei testi che ho messo anche in internet relativi a Paolo di Tarso, si tratta esattamente di cinque pezzi che ho messo nel gruppo www.federazionepagana.it e si intitolano questi cinque pezzi. Uno, l'uso militare della carità cristiana, cioè la carità cristiana come arte militare di devastazione dei sistemi sociali. Due, la dottrina dell'arbitro è assoluto del padrone e dunque l'autoassoluzione della Chiesa Cattolica per le sue malvagità. Tre, l'uomo è insieme al vaggio e dunque va punito in continuazione. Quattro, il disprezzo per la donna e come conseguenza del piacere. Cinque, la diffamazione del matrimonio. Dunque, stasera vi faccio il disprezzo per la donna e come conseguenza del piacere. Il, vediamo un attimino. Aiaiaiai. Dunque, vediamo un attimo. Ci sono sempre le cose che non sono mai a posto. Io non riuscirò mai ad avere le cose a posto. Non sono mai riuscita a mettere a posto le cose con un certo ordine. Va bene. Il disprezzo per la donna e per il piacere della vita. Ho un bel casino in testa. Devo aver fatto qualche errore nell'elencazione. Niente. Cancello tutto e faccio il numero 5, la diffamazione del matrimonio che sono sicuro di non averlo fatto. E poi cercherò di chiarirmi un attimino le idee, se ci riesco, per quello che ho già fatto. Perché effettivamente sono un po' incasinato. Il pezzo è diventato da Paolo di Tarso a Ratzinger, la diffamazione del matrimonio. Dice Paolo di Tarso nella lettera ai Colossesi 3, 18. Voi donne siate soggette ai vostri mariti, come conveniente al Signore. Efesini, sempre Paolo di Tarso, dice Sempre Paolo di Tarso, della lettera a Tito. Le donne d'età abbiano un santo decoro nel loro comportamento, non siano maldicenti, non dedicate al vino, siano invece maestre del bene, che sappiano insegnare alle giovani ad amare i loro mariti e i propri figli, ad essere prudenti, caste, affezionate alla casa, buone, soggette ai mariti, affinché non si dica male della parola di Dio. In cosa consiste la diffamazione del matrimonio fatto da Paolo di Tarso? In Paolo di Tarso, il San Paolo dei Cristiani, il matrimonio è solo in funzione delle esigenze sessuali. Gerarchia funzionale al controllo delle persone attraverso il controllo delle manifestazioni sessuali. Per Paolo di Tarso, gli esseri umani non sono delle persone, ma sono un coacervo di tensioni volte alla fornicazione, che possono avere uno spocco non peccaminoso solo nel matrimonio. La diffamazione del matrimonio fatta da Paolo di Tarso consiste nel negare l'individuo, la persona, che costruisce delle relazioni che possono essere anche di natura sessuale. Il matrimonio è concepito da Paolo di Tarso come una galera, una prigione, nella quale vengono circoscritte le funzioni sessuali delle persone. Come ogni prigione ha le sue regole inflessibili. Innanzitutto le funzioni sessuali sono definite in quella e solo in quella natura. Tutto ciò che non corrisponde a quella natura diventa perversione e diventa atto da perseguire a norma di legge. Peccato è una tema quando la Chiesa cristiana è debole, violenza, tortura e roghi quando la Chiesa cristiana è padrona del sistema sociale. Per Paolo di Tarso l'uomo e la donna sono solo ciò che hanno in mezzo alle gambe e la relazione che intercorre fra i soggetti è solo quella che permette loro da ciò che hanno in mezzo alle gambe. E sono le emozioni che esprimono gli esseri umani mediante quanto hanno in mezzo alle gambe che terrorizza Paolo di Tarso che, come impotente, si sente eunuco per il regno dei cieli. Come tale si argia modello per raggiungere il regno dei cieli imponendo i limiti e le condizioni di espressione emozionale a chi impotente non è. Dice Paolo di Tarso Vi dico questo per condiscendenza, non per farvene un comando, perché vorrei che tutti gli uomini fossero come me, ma ognuno ha da Dio il suo dono particolare. Chi un modo, chi un altro. Ai celibi e alle vedove io dico, ebbene, per loro se rimangono come sono io, ma se non si sentono di vivere continenti, si sposino, è meglio sposarsi che bruciare. 1 Corinti 7, 6, 9 Per riuscire a comprendere l'ideologia matrimoniale di Paolo di Tarso e le strategie della Chiesa Cattolica finalizzate ad individuare ed imporre la morale sessuale coercitiva e distruttiva, è necessario sapere che per loro l'uomo e la donna sono solo quanto hanno in mezzo alle gambe. In Paolo di Tarso e nella Chiesa Cattolica si riscontra un'ossessione assoluta e malcelata delle pratiche sessuali degli esseri umani. Dal controllo che la morale cattolica riesce ad imporre su ciò che l'uomo e la donna hanno in mezzo alle gambe, si misura il potere della Chiesa Cattolica, il dominio che la Chiesa Cattolica esercita sull'uomo. Dice Paolo di Tarso Come in tutte le Chiese dei Santi, le donne, nelle riunioni tacciano perché non è stata affidata a loro la missione di parlare, ma stiano sottomesse, come dice anche la legge. Se vogliono essere istruiti in qualche cosa, interroghino i loro mariti a casa, perché è indecoroso che una donna parli in un'assemblea. Forse è uscita da voi la parola di Dio? O è giunta soltanto a voi? Se uno crede di essere profeta o avere dei doni dello Spirito, riconosca che quanto scrivo è un ordine del Signore. Se qualcuno non lo riconosce, non sarà riconosciuto. 1 Corinti 14, 34-38 L'energia sessuale è l'energia della vita. È l'energia sessuale che porta alla nascita. È l'energia sessuale che porta a sviluppare gli esseri della natura sia fisicamente che intellettualmente. L'energia sessuale si esprime sia attraverso la libido, sia attraverso l'attività fisica, sia attraverso l'attività mentale, il pensiero astratto. Quando si dice esprimere, significa che la manifestazione dell'energia sessuale delle persone nei singoli atti, porta le persone a crescere e a dilatarsi nel mondo in cui sono nate. Quando si esprime mediante la libido, c'è la relazione sessuale e più in generale le relazioni sociali quando si esprime mediante la fisicità, c'è il lavoro. Quando si esprime all'interno del pensiero astratto, c'è lo sforzo di comprensione dell'uomo del mondo in cui vive, sia della natura che del mondo sociale. Il matrimonio è legato all'attività sessuale, ma l'attività sessuale non può diventare padrona della relazione matrimoniale. Nella relazione sessuale si può esprimere una relazione di possesso fra i partecipanti. Questa relazione di possesso deve essere finalizzata e circoscritta nella relazione sessuale e fin tanto che questa dura. Il progetto di Paolo di Tarso e della Chiesa Cattolica è quello di estendere la relazione di possesso che si esprime all'interno della relazione sessuale a tutte le manifestazioni della vita quotidiana. Se nella relazione sessuale in generale la donna è passiva e l'uomo è attivo, Paolo di Tarso e la Chiesa Cattolica vogliono estendere questa condizione a tutte le relazioni della loro esistenza. Dice Paolo di Tarso voi donne siate soggette ai vostri mariti com'è conveniente nel Signore. Paolo di Tarso, lettere Colossesi 3.18 E ancora le donne siano soggette ai loro mariti come al Signore perché il marito è capo della donna come Cristo è capo della Chiesa del cui corpo egli è il Salvatore come la Chiesa è soggetta a Cristo così le donne siano soggette in tutto ai loro mariti. Paolo di Tarso, lettere di Efesini 5.22 Attività sessuale dentro o fuori del matrimonio è attività sessuale. Matrimonio significa assumere su di sé degli impegni giuridici con l'altro impegni giuridici che vanno oltre l'attività sessuale e che non possono essere regolati dalla relazione di possesso che viene a manifestarsi all'interno del lato sessuale. Pertanto, in una società civile non possiamo considerare il matrimonio come finalizzato dall'attività sessuale ma lo dobbiamo considerare come un contratto fra persone per affrontare al meglio la loro esistenza in cui la relazione sessuale ha una sua importanza più o meno grande a seconda di come le persone vogliono considerarla. Per Paolo di Tarso il matrimonio è solo finalizzato alla manifestazione sessuale e quanto egli afferma è solo finalizzato a porre condizioni coercitive alla possibilità di praticare la propria attività sessuale. Riguardo a quanto mi avete scritto è bene per l'uomo non toccare donna dice Paolo di Tarso tuttavia per evitare la fornicazione ogni uomo abbia la propria moglie ed ogni donna il proprio marito il marito rende la moglie quel che le deve e lo stesso face la moglie verso il marito la moglie non è padrona del proprio corpo ma il marito così pure il marito non è padrone del proprio corpo ma la moglie Corinti 7.1.4 Per Paolo di Tarso è come se il matrimonio fosse la costruzione di un serraglio in cui si stabilisce una gerarchia e molte persone educate dai cristiani sono convinte nella società civile il matrimonio è assunzione di doveri da parte dei contraenti ma in nessun caso i contraenti devono né possono rinunciare alla determinazione della loro esistenza in ogni istante della loro vita i contraenti non rinunciano ad essere persone in Paolo di Tarso invece si chiede alla donna di rinunciare ad essere persone per accettare il dominio del marito e in questa gerarchia alcuni esseri umani vengono privati di diritti sociali al fine di far funzionare meglio il serraglio stesso dice Paolo di Tarso tuttavia voglio tuttavia che sappiate questo Cristo è il capo di ogni uomo l'uomo è capo della donna e Dio è capo di Cristo il capo è capo il capo è il padrone chi è sottoposto al capo deve obbedire al capo perché il capo è la legge la legge del capo è la soggettività espressa dal capo nel matrimonio di Paolo di Tarso c'è la negazione della persona umana della sua dignità della sua capacità di determinare se stesso nella vita sociale e quotidiana è talmente abberrante e criminale quanto dichiarato da Paolo di Tarso che negli ultimi dieci anni la nostra corte di Cassazione ha lavorato ripetutamente per costruire una struttura di principi morali che sancissero la superiorità dei valori etici e morali della Repubblica in aperto contrasto con i valori di morte e di distruzione della persona umana imposti mediante la violenza dei cattolici dall'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia la coercizione imposta a Paolo di Tarso è stata via via superata con una serie di sentenze nello stesso tempo la Chiesa Cattolica ha continuato la sua attività di intimidazione all'interno del sistema sociale al fine di riprenderne il controllo alcuni stralci di articoli tratti da alcuni quotidiani sono sufficienti per delineare la situazione attuale nella società civile per quanto riguarda la famiglia mentre la Corte di Cassazione è impegnata a definire i diritti e doveri delle persone che contraggono il matrimonio la Chiesa Cattolica è impegnata a denigrare le persone definendoli maschi o femmine e limitarne i diritti civili per la riaffermazione del proprio dominio sulla società dalla Repubblica del 5 giugno 1999 la Cassazione i bambini non sono oggetti Roma i bambini non sono oggetti ma soggetti di diritti e non possono essere costretti a fare ciò che ordina il provvedimento di un giudice così la Cassazione dà ragione ad una bimba di 9 anni che rifiutava di vedere il padre perché dopo la separazione ha avuto altre 3 figlie dalla Repubblica del 4 luglio 2003 la Cassazione anche se fugace la pacca sul sedere è un reato il palpeggiamento delle natiche costituisce indiscutibilmente un atto sessuale in quanto l'autore commette una effettiva e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima ancora la Cassazione tali atti sia pure superficiali integrano un'aggressione ancora la Cassazione devono includersi nella nozione di atti sessuali tutti quelli indirizzati alle zone erogene che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo il principio è ribadito da analoga sentenza nel gennaio del 2005 sempre dalla corte di Cassazione da la Repubblica del 19 gennaio 2005 ribadendo che vi è violenza sessuale tutte le volte che si compie atti indirizzati verso zone erogene idonei a compromettere la libera determinazione del soggetto passivo in ordine alla sua sessualità connotati dalla costrizione abuso di inferiorità fisico-psichica mentre non ha alcun rilievo perché vi sia la consumazione del reato il fatto che l'atto sessuale sia di breve durata e che non abbia determinato la soddisfazione erotica del soggetto attivo da il gazettino del 5 marzo 2005 Cassazione lo schiaffo non è mai educativo i genitori devono applicare regole severe con i figli ma non devono mai alzare le mani il ceffone non è mai educativo specie quando i ragazzi sono nell'età della crescita Maria Rita Parsi psicologa e presidente della fondazione Movimento Bambino definisce sacrosante la sentenza i genitori devono imparare a parlare con i loro figli a dire di no magari anche più spesso ma non si deve esigere rispetto ed obbedienza a suon di schiaffi la psicologa snocciola dati preoccupanti sulle punizioni violente applicate dai genitori e dai figli un bambino su tre riceve quotidianamente violenze fisiche o psicologiche dai genitori per contro da il gazzettino del 20 marzo 2005 prete frattura il naso a un bimbo con una sberla belluno tornare a casa dal catechismo col setto nasale rotto non è il massimo specie se la causa è lo scapellotto del prete eppure è successo a Cibiana di Cadore durante la preparazione alla cresima e ora le mamme dei compagni tranne una per solidarietà non mandano più i figli in canonica un ragazzo di 14 anni è finito al pronto soccorso dell'ospedale di Pieve dolorante e sanguinante non era così poco prima nella canonica della parrocchia quando disturbava la lezione ridendo o chiacchierando come succede sempre più spesso in ogni scuola se solo che in ogni scuola però non gli spaccano il naso dalla Repubblica del 12 maggio 2005 danno morale e patrimoniale per la mancata vita di coppia lui era obbligato alla sincerità tace l'impotenza la moglie va risarcita sentenza della Cassazione sull'inganno prima del matrimonio Roma se un uomo tace sui suoi problemi sessuali alla futura moglie dovrà poi pagare i danni infatti chi si sposa nascondendo volutamente la sua impossibilità di avere rapporti sessuali completi rischia di essere condannato a risarcire anche i danni morali e patrimoniali arriva un'altra sentenza della Cassazione a stabilire le regole della vita di coppia secondo i giudici dell'alta corte il marito che omette informazioni importanti sulla propria sfera sessuale non può più pensare di cavarsela col solo addebito della colpa la sua omissione dolosa gli costerà oltre all'eventuale assegno di mantenimento per la ex anche un ricco risarcimento per tutti i danni morali e patrimoniali che ha prodotto alla sua compagna frustandone le legittime aspettative ad avere una vita di coppia piena dalla repubblica del 5 maggio 2005 Roma sentenza della Cassazione dopo ricorso è reato umiliare i figli per cercare di educarli Roma è reato umiliare i figli per educarli la corte di Cassazione manda in soffitta i mezzi di correzione che non possono più intendersi come comportamento dannoso per un bambino soltanto sul piano fisico ma anche sul piano psicologico va dunque punito il genitore che denigra pensando di educare la sesta sezione penale invita i magistrati ad una più moderna interpretazione degli articoli del codice penale sull'abuso dei mezzi di disciplina e maltrattamenti sui minori i supremi giudici sanciscono costituisce abuso anche il comportamento doloso attivo o omissivo mantenuto per un tempo apprezzabile che umilia svaluta denigra e sottopone a servizi psicologici con bambino e con questa sentenza sarebbero da punire tutti i cattolici che costringono i loro figli ad andare in chiesa a pregare da il gazzettino del 23 settembre 2005 Cassazione si può sbeffeggiare il capo si possono scimmiottare le manie del capo senza rischiare di perdere il posto parola di corte di Cassazione che ha annullato il licenziamento di tre dipendenti della ITA e il cementi per aver sbeffeggiato attraverso un volantino le ossessioni di uno dei manager della società nel volantino c'è una serie di valutazioni in chiave satirica i dipendenti erano stati licenziati in tronco a causa degli scritti gravemente lesivi dell'immagine della società e del manager dalla repubblica del 3 ottobre 2005 attenzione qui siamo le dichiarazioni di uno come Ratzinger Dio il sinodo il sinodo mondiale di Vescovi perdere ogni significato si chiama ricatto alla società civile questo da il gazzettino del 5 giugno 2005 sempre Ratzinger nel messaggio ai pellegrini veronesi il pontefice ha richiamato l'unità indissolubile del matrimonio e il ruolo della famiglia cristiana benedetto sedicesimo salviamo la famiglia dei divorzi l'alleanza matrimoniale fra l'uomo e la donna è ordinata al bene dei coniugi e all'educazione della parole in accordo con il disegno di Dio città del Vaticano la famiglia è chiamata ad essere intima comunità di vita ed amore perché fondata sul matrimonio indissolubile benedetto sedicesimo ieri nel discorso rivolto a oltre 6.000 persone del pellegrinaggio di Verona e nella lettera inviata al cardinale Lopez Truio presidente del pontificio consiglio per la famiglia in vista dell'incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Valencia in Spagna nel prossimo luglio ha richiamato con forza la dottrina del matrimonio indissolubile fra uomo e donna che non ammette alternative c'è da aggiungere che il Papa lunedì prossimo nel tardo pomeriggio terrà la relazione fondamentale sul tema famiglia e comunità cristiana formazione della persona e trasmissione della fede trasmissione della fede e la finalità della chiesa cattolica riaffermazione del proprio dominio sugli esseri umani e la loro vita dove il cardinale Lopez Truio sta procedendo al massacro sistematico di donne indifese per i suoi pruriti di massacratore nazista impedendo loro di esercitare il loro libero arbitrio dice Paolo di Tarso ai coniugati ordino non io ma il Signore che la moglie non si separi dal marito ma qualora si separasse non passi ad altre nozze o si riconcigli col marito e il marito non ripudi la moglie 1 Corinti 7 10 ai coniugati non Paolo di Tarso ma il suo padrone il macelleo di Sodoma e Gomorra l'assassino che ha mandato il diluvio universale per i suoi pruriti di macellaio ordina loro l'assassino di cui Paolo di Tarso si fa garante ordina le persone che cosa le persone devono o non devono fare quando parliamo di un criminale come trovo io che indisprezzo delle norme civili deve costringere le donne a non abortire per poter distruggere la loro vita o di un criminale come Paolo di Tarso dobbiamo tenere conto di un principio importante su cui si fonda la prassi cristiana e citiamo Atanasio Atanasio non fu no citiamo il da Karls Desner il gallo cantò ancora che parla di Atanasio Atanasio non fu né un pensatore né un buon stilista bensì il prototipo del gerarche intollerante e avido di potere lo stesso santo Epifanio di lui dice quando gli si opponeva resistenza allora usava violenza se poi egli stesso veniva costretto dalla forza allora predicava pateticamente la tolleranza una prassi usata dalla chiesa cattolica fino ai giorni nostri cioè in pratica cosa succede che se voi prendete la chiesa cattolica e la mettete con le spalle al muro e gli chiedete di pagare i danni e gli chiedete rispetto alla società civile lei supplica la vostra tolleranza ma se la chiesa cattolica è forte comincia ad accumulare legna e a bruciarvi i vivi questa è la realtà oggettiva distrugge il matrimonio come relazioni fra le persone per trasformarlo in una relazione da stalla che tanto piace ai cristiani il cui fine è fare figli per trasmettergli l'orrore della fede cristiana è il delitto contro il matrimonio di Paolo di Tarso negare le persone per mettere in evidenza i loro sessi Paolo di Tarso era impotente ma era ossessionato dal pene e dalla vagina ed è attraverso questa ossessione che Paolo di Tarso tenta di distruggere gli esseri umani l'orrore che Paolo di Tarso ha imposto alle persone difese viene individuato dalle società moderne che iniziano a comprendere come le persone non siano bestiame come sotto la monarchia assoluta imposta dal cristianesimo imposta dal dio padrone dei cattolici ma sono persone sono soggetti di diritto e sono soggetti di diritto al di là di quanto hanno in mezzo alle gambe o in che direzione spingano le loro pulsioni sessuali l'articolo 29 della Costituzione della Repubblica italiana afferma la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio il matrimonio è ordinato dall'eguaglianza morale e giuridica di coniugi con limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare si parla sempre di persone e non si discrimina su ciò che i coniugi hanno in mezzo alle gambe se ciò fosse sarebbe razzismo e il razzismo la discriminazione per la natura sessuale sarebbe perseguita a norma di legge sarebbe in contrasto con la Costituzione italiana e con la Costituzione europea che l'Italia ha recentemente approvato nella società civile uscita dall'orrore imposto da Paolo di Tarso la sessualità fra le persone può essere praticata senza necessariamente obbligarla all'interno del campo di concentramento come i cattolici chiamano e definiscono il loro concetto di matrimonio il matrimonio è un contratto civile di mutua assistenza fra persone al di là di quanto le persone hanno in mezzo alle gambe o ai rapporti di parentela diretta o indiretta qui sono legati il delitto d'onore la lapidazione per adulterio la carcerazione per abbandono del letto coniugale o del tetto coniugale sono per citare le situazioni più recenti e ancora oggetto di cronaca appartengono all'orrore che i Ratzinger hanno imposto mediante la violenza a uomini e donne indifesi oggi come oggi una percentuale consistente di ragazzi nascono fuori dal matrimonio non necessariamente fare figli avviene all'interno del matrimonio e quasi il 50% delle coppie bisessuali che hanno contratto un matrimonio trovano un numero e una qualità e una quantità di motivazioni insopportabili per continuare la convivenza i ragazzi nati fuori dal matrimonio una volta quando la chiesa cattolica dominava erano i figli della colpa condannate le madri molto meno i padri e i ragazzi condannate il disprezzo una condizione che la nostra costituzione ha dovuto prendere in considerazione in contrapposizione alla chiesa cattolica 60 anni l'articolo 30 della costituzione della repubblica comma 1 recita è dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio istruire non obbligare all'obbedienza o all'accettazione della fede mediante la manipolazione mentale non solo ma il comma 1 dell'articolo 30 della costituzione della repubblica riconosce che nel matrimonio non necessariamente possono nascere dei figli esattamente come dei figli possono nascere fuori del matrimonio le affermazioni di Ratzinger suonano come un atto di aversione nei confronti dell'istituto matrimoniale italiano esattamente come le parole di Paolo di Tarso hanno posto le basi per 2000 anni di orrore cattolici trasformando i rapporti fra le persone in rapporti di sottomissione voluti dal suo dio padrone la logica che governa le relazioni fu la logica sociale a fondamento dei campi di concentramento e dei campi di starminio una delle tesi di Wirkleft per le quali di Hass venne bruciato venne bruciato dei cattolici fu la dichiarazione secondo cui persone anziane potevano sposarsi anche solo per reciproco soccorso e non necessariamente in funzione dei figli di quel delitto Ratzinger ne porta la responsabilità come riaffermazione del suo principio dottrinale di morte e di orrore all'orrore imposto da Ratzinger che dice la famiglia è chiamata ad essere intima comunità di vita e d'amore perché fondata sul matrimonio indissolubile e da Paolo di Tarso che dice ai coniugati ordino non io ma il Signore che la moglie non si separi dal marito ma qualora si separasse non passi ad altre nozze o si riconcili col marito e il marito non ripudì la moglie 1 Corinti 7.10 la società civile inizia a rispondere riconoscendo unioni diverse e l'ira e la ferocia il livore di Ratzinger di Ruini e la CEI si riversano nella società quale manifestazione delle loro paure di perdere il controllo delle persone di perdere il controllo sul loro bestiame umano per la Chiesa Cattolica la famiglia è una galera le cui sbarre sono costituite e alimentate dal suo odio sociale e sono rappresentate da 1 la famiglia non è composta da persone ma da pene e da un pene e da una vagina nella famiglia cattolica gli individui vengono depersonalizzati e identificati con ciò che hanno in mezzo alle gambe 2 la santificazione della condizione gerarchica per cui il sesso femminile deve sottomissione d'obbedienza al sesso maschile 3 la funzione della famiglia è portatrice partorire bestiame in funzione del dio padrone 4 scopo della famiglia è costringere i propri figli con la violenza ad accettare la fede nel dio padrone e qui per oggi mi fermo e continueremo la prossima volta sviluppando questi 4 punti su cui si fonda la famiglia cattolica vediamo se riesco a segnarmi dove sono arrivato visto che faccio una tale confusione ormai mentale e la prossima volta prossimo giovedì sera continueremo con questa dissertazione sul concetto di famiglia che ne hanno i cattolici purtroppo per i cattolici la famiglia è sempre stata una galera una galera nella quale costringere le persone entro regole assolute dettate al suo dire del suo dio padrone che avevano una sola finalità distruggere i singoli esseri umani quando voi oggi trovate delle situazioni per cui il marito ammazza la moglie la moglie ammazza il marito la moglie butta i figli dal balcone la moglie abbandona i figli nelle spazzature queste sono tutte condizioni create dalla chiesa cattolica e da quel criminale di Ratzinger perché noi non siamo responsabili solo di ciò che facciamo fisicamente ma siamo anche responsabili delle condizioni per cui noi determiniamo il nostro sistema sociale in cui viviamo e se noi facciamo finta di non vedere quali sono le cose e se noi costruiamo delle patologie psichiche attraverso l'educazione dei nostri ragazzi noi siamo responsabili di tutto ciò che produrremo in futuro per cui la responsabilità per quanto riguarda l'etica la morale il nostro modo di vivere il nostro modo di rapportarsi all'interno della nostra società va oltre di quella che è la definizione giuridica di responsabilità di un soggetto e questo vorrei che fosse abbastanza chiaro un po' per tutti bene io con Paolo di Tarso mi fermo qui e lo riprendo la prossima volta a questo articolo dopo metterò a posto anche gli articoli che non sono riuscito a fare precedentemente però visto che ho qualche minuto di tempo prima di avviare le telefonate prendo un articolo che mi ha portato un amico oggi a proposito dell'eutanasia in pratica cosa è successo stesso che in un liceo di Torino è stato è stato presentato un cd sull'eutanasia il titolo mi lasciava un po' perplesso l'eutanasia lezioni di eutanasia al liceo il medico dell'RSU 486 mostra un video shock in realtà il discorso è molto è molto più profondo l'articolo sul Corriere della Sera di oggi 19 gennaio 2006 e dice che giorno vorresti morire Michelin i ragazzi di corridoio a secondo piano ascoltano Muti ho una data preferita dottor Sobel il 22 i 400 occhi che si staccano dal video non si staccano dal video e perché proprio il 22 gli studenti sono a bocca spalancata perché è il numero che ho sempre giocato al casino una si asciuga gli occhi e ma è vinto sul 22 qualcuno si copre la bocca con la felpa del toro no ore 11 suona la campanella a morto nel liceo scientifico Albert Einstein una morte vera una dolce morte quella di Michelin impiegata alle poste di Lausanne malata terminale che un giorno chiese al medico Jerome Sobel di lasciarlo andare di là bevendo un succo di frutto avvenenato e lasciando riprendere il tutto in un film exit il diritto di morire che commuove come millon dollar baby e molto di più propaganda di eutanasia il dvd in vendita su un internet a 25 euro in Italia non era mai stato proiettato in pubblico ieri mattina ha rotto il tabù Silvio Vitale il dottor Morter del Po il ginecologo del Sant'Anna che impugna la rosa radicale e propugna i diritti più controversi della pillola abortiva al suicidio assistito i liceali in otogestione 200 su 700 l'hanno invitato è giusto riflettere sulla scelta di morire quando si è condannati l'ex allievo Vitale ha accettato seguivano con attenzione e maturità i professori hanno consentito questi sono bravi ragazzi non sono teste calde il cardinal Poletti si è indignato è indiscutibile che l'unico modo proposto per eliminare il dolore terminale è il sequello dell'eutanasia protesta la Curia di Torino ci domandiamo se i genitori degli studenti sono stati coinvolti in una decisione che non può non chiamarle in causa no molti di genitori non ne sapevano niente ma anche il prez della Lettersi Giornali a me avevano detto che veniva Vitale e basta dice Carmine Pertucco 55 anni pensavo che parlasse d'aborto non d'eutanasia però l'autogestione è utile e io non ho voluto proibire nulla ho chiesto solo che Vitale non facesse un comizio ma affrontasse il contraddittorio con un altro adulto il medico c'è stato a metà proiezione subito dopo il dibattito con un teologo ho detto che non ero qui per convincere nessuno ho detto ho letto dieci righe di benedetto sedicesimo una citazione di Umberto Veranesi e Don Franzoni e due passi di Derek Humphrey e di Jacques Poir ho spiegato che oggi non si pensa alla morte ma a volte la morte è un processo lento e c'è chi chiede di non soffrire finiti sui giornali come i parignani milanesi anni 60 quelli della Zanzana gli autori dell'Einstein sono scioccati più del clamore che delle immagini fanno picchietto e silenzio stampa vogliono la proiezione a porte chiude si sentono strumentarizzati Daniel classe quarta magari siamo stati un po' ingenui ma ci siamo sentiti usati l'anello debole noi non abbiamo niente contro il Vaticano usati da chi il prof di religione Alberto Pisce è chiaro da Viale che si candiderà alle elezioni viene a farsi propaganda sulla pelle dei ragazzi il piccolo boia distribuisce in classe i volantini sulla RU486 logo dell'associazione Alderaide Aglietta ma respinge all'inizio doveva venire un altro radicale ma non poteva io sono uno che accetta da sempre i confronti l'altro giorno volevo confrontarmi col presidente del senato Marcelo Pera ma me l'hanno impedito quando suona la campanella vera i ragazzi applaudono è stato bravo non ci ha influenzato ma alla fine com'è questo film uno in tv si vede ben altro un altro boh non si capiva in francese ed erano 200 davanti al televisore non si vedeva niente in pratica cosa è tutta questa storia in pratica è che in Italia non si vuole parlare di eutanasia e le persone che vorrebbero parlare di eutanasia sono arrivate il punto di morire e anche se vogliono scegliere non hanno più il diritto di scegliere Ratzinger gli ruba la vita gli stupra gli impedisce di morire con dignità e con onore ed è la dignità e l'onore che i cattolici hanno rubato gli esseri umani per poterli stuprare per poterli derubare in realtà il diritto di morire in maniera decente il diritto di porre fine le proprie sofferenze il diritto di passare di là è dato perché noi siamo i proprietari del nostro corpo e della nostra vita e possiamo anche decidere di rimanere di qua ma Ratzinger vuole rubare anche questo Ratzinger è uno dei peggiori terroristi assassini con la sua organizzazione mafiosa che esista su questo pianeta vi do il via le telefonate 049-700-700 049-7888 proibire l'eutanasia è un delitto è un delitto perché si impedisce alle persone di disporre del proprio corpo cioè le persone per gentaglia assassina come Ratzinger non sono padrone del loro corpo le persone sono bestiame del suo dio e che le persone siano bestiame del suo dio è una bestemmia contro la costituzione della repubblica italiana è una bestemmia contro la società civile è una bestemmia contro le persone che hanno costruito la libertà in questo paese e non sono certo gli adoratori del macellare di Sodoma e Gomorra pronto? pronto? si? si buongiorno buongiorno io l'ho appena ascoltata è la prima volta che chiamo ad una radio sono abbastanza allucinato dalle parole che sta dicendo nel senso che lei la può pensare in maniera completamente diversa ma io voglio Ratzinger in galera e anche tutti i cattolici anche il macellare di Sodoma e Gomorra e anche il pacco di Nazareth li voglio in galera perché commettono dei delitti e chi commette dei delitti va in galera mi sembra ovvio per cui chiaramente che tu sei allucinato se tu sei abituato ad aiutare Ratzinger a stuprare i bambini con i geni di ginocchio avanti al macellare di Sodoma e Gomorra sei allucinato si? pronto? bene allora io chiudo qui la trasmissione Magia Stragonaria e Paganessimo e continueremo con il discorso sulla famiglia il prossimo giovedì ne ho altri tre pezzi su Paolo di Tarso ho caricato tutto in internet se andate in www.federazionepagana.it i pezzi li trovate tutti e sia chiaro una cosa Ratzinger è un criminale i cattolici sono dei criminali l'apologia di strage in questo paese è un crimine adorare il macellare di Sodoma e Gomorra in questo paese è un crimine e quel crimine va perseguito a norma di legge io so benissimo che il concordato permette ai cattolici di non essere perseguiti a norma di legge lo so ma so anche che la Corte Costituzionale la Corte di Cassazione attendono che la società civile cominci a ribellarsi davanti a quelle imposizioni morali ed etiche e cominci a rivendicare i principi della nostra Costituzione come i principi portanti della vita civile io vi ricordo sono Claudio Simeoni il mio indirizzo è piazzale Parmesano Otto Marghera sono meccanico apprendista stragone e guardiano dell'anticristo e vi do appuntamento per giovedì prossimo ciao a tutti